Si avvicina la serata più attesa di tutta l'estate terronovese con calici di stelle nella frazione di Campo Gialli, appuntamento previsto per il 10 agosto prossimo. E mentre i miglietti di ingresso, come ogni anno, stanno andando a ruba, c'è sabato 5, aspettando i calici, stavolta nella frazione di Castiglione Ubertini. Siamo a Castiglione Ubertini, sabato 5 agosto, ci sarà l'evento aspettando calici, quindi ci sarà alle 18 la consuetta passeggiata curata da Alcedo, linee di intorni di Castiglione Ubertini, e poi ci sarà la consuetta scena con lo spettacolo musicale. Sono già aperte le pronotazioni per il 10 agosto per calici di stelle qui a Campo Gialli, e quindi ci sono ancora posti disponibili, anche quest'anno sarà un evento che coniugherà il borgo di Campo Gialli con i nostri cibi tradizionali, gli spettacoli musicali.